Ehi, ciao Gigi! Complimenti! Avete perso! Contro la Macedonia! Eh, se l'abbiamo fatto! Incredibile, Marco! Complimenti anche a te! Ma dai, come lo potete spiegare? È incredibile! Sì, è vero! È un lavoro super difficile per giocare così male, per insultare così tutti gli italiani, tutti i nostri tifosi, soprattutto che abbiamo giocato contro una squadra con giocatori di bassa qualità, ma l'abbiamo fatto e siamo capaci di fare peggio di quello! Gigi, cosa puoi dire? Oh, grazie Marco! Grande Marco! È così bravo per essere scemo! Boh, io posso dire che abbiamo fatto una bella bardita, abbiamo perso correttamente! All'inizio volevo piangere, ma poi ho visto il mio salario! Per voi poveri, posso capire che domani sarà difficile, ma potete stare tranquilli, io dormirò bene! E la cosa importante stasera è che non possiamo perdere i mondiali l'anno prossimo perché li abbiamo già persi, e poi possiamo rispondere all'ino di Mameli, dove la vittoria, ma non era in Italia! E boh, scusate, mo devo andare perché ho il caviale nel freezer a Parigi e se non torno adesso non sarà buono! Ciao!